Le incertezze che invece abbiamo sentito in Renzi, per cui no, la settimana scorsa era quello che non voleva farne invece un voto tanto politico, derivano io ritengo dall'aria che non è più così scontata per lui per le amministrative, cioè il conto che chiunque è in grado di fare, se le amministrative dimostrano che il PD frena e che anzi il centrodestra avanza, ovviamente avere politicizzato il voto di ottobre non è stata una scelta intelligente e quindi cerca di frenare, ma, e chiudo, non potrà, perché questo è il connotato che Renzi ha dato a tutta la legislatura, un governo che si esprime solo per voti di fiducia, è un governo che ogni volta fa la conta e decide di serrare i ranghi, in un certo senso è come se Renzi volesse far votare il voto di fiducia agli italiani e questa volta non gli riuscirà, perché tra l'altro, primo la riforma è molto complessa e se vogliamo aprire, io sono d'accordo con Rabino, apriamo il discorso nel merito, perché è la cosa migliore che si possa fare.